no mi stavo divertendo buonasera innanzitutto mi stavo divertendo a leggere un po di di siti generale eccetera no e allora juve sfuma molina sfuma kostic sfuma arnautovic sfuma questo sfuma quell'altro come titoli praticamente nel mercato bianconero nel mercato della juve adesso altro discorso allora la juve da sempre fastidio da sempre fastidio quando dico che la juve è si prende i titoli sia nel positivo che nel negativo è un'altra dimostrazione siccome in questi giorni ci sono dovuti essere tanti titoli in positivo di maria pogba bremer altri movimenti eccetera no e quindi allevriche dice la juve deve vincere lo scudetto tutte cose dalle quali non ci si può esimere no perché sono dati di fatto e allora per fare un dopo finita questa questa dovuta dovuto tributo alle cose positive della juve bisogna ricominciare a fare i titoli sulle cose negativo potenzialmente tali poi se molina ha raggiunto l'accordo con l'atletico madrid o meglio se udinese ha raggiunto l'accordo con l'atletico madrid per 26 27 milioni così si vocifera o così si scrive no su questi siti eccetera va bene cioè e poi è vero cioè voglio dire adesso aspettiamo il comunicato ma molina andrà a giocare nell'atletico madrid non sono qua a dire che adesso la juve rilancerà no perché non rilancia niente la juve la juve la sua offerta l'aveva fatta non andava oltre i 15 20 milioni chiaramente come è successo per bremer con l'inter l'atletico offerto di più molina va all'atletico ma la juve non è qua a strapparsi i capelli né a delegare me di farlo perché tanto con tutta la buona volontà sarebbe praticamente impossibile sì magari con quelle pinzettine no per quelle per strappare ecco i peli superflui forse qualche capello ma non me lo strapperei comunque cioè voglio dire no ma bisogna mettere l'accento su questa cosa qua e la juve se ne farà una ragione se non potrà vedere molina se sfuma molina se la juve è stata beffata dall'atletico per molina così come se ne farà una ragione se sono vere le parole ma io ci credo lo conosco marco poi divaio quindi c'è un motivo di non fidarmi di quello che dice se lui dice che arnautovic è incedibile benissimo la juve non prenderà arnautovic voglio dire del resto è nel diritto del bologna che è proprietario del cartellino di arnautovic dire queste cose e se poi corrispondono al vero benissimo ma nessuno va a fare la rapina o meglio il rapimento di arnautovic a bologna se bologna dice che arnautovic non si tocca la juve se ne farà una ragione cioè non sono situazioni o giocatori per i quali la juve impazzisce per cui se non li ha diventa amata poi cioè ma bisogna fare mettere in risalto questa cosa qua così come costic attenta juve ti sta scappando costic e quindi e quindi cioè era un altro esterno potrebbe arrivare potrebbe non arrivare ma amen cioè la juve ha preso di maria avrà un giorno chiesa al 100 per cento sia mentalmente che fisicamente andrà su altri giocatori e comunque il mercato non è finito perché allora io posso capire no certi certi titoli o certe situazioni messe nel risalto al 31 di agosto il primo di settembre chiude al mercato dici cavoli eh vabbè la juve non so promuoverà un attaccante dell'under 23 userà i giovani per colmare la vacuna butterà nella mischia caio giorgio ma anche lui deve recuperare dallo stesso infortunio di chiesa praticamente se non va del rapo quindi ci vuole del tempo ah no siamo al 22 di luglio siamo al 22 di luglio e quindi eh boh non lo so c'è veramente mi mappate che divertente eh voglio dire divertente però eh insomma sembra quasi che certe volte si debba o si voglia compensare necessariamente subito quanto di buono è stato detto scritto eccetera certo che la juve adesso è ma è noi sempre nel 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 mirino no della critica e della curiosità per esempio ci sarà curiosità sulla prima uscita di questa notte non so se mi alzo alle 5 per guardare la partita sinceramente ve lo dico magari mi guarderò la replica più avanti visto che tanto su da zone poi comunque te la puoi rivedere quando vuoi la partita e comunque ci sarà un mio servizio domani alle 13 su sport media su sport media su questa gara ma sono sicuramente molto curioso anch'io eh di di vedere innanzitutto con chi giocherà considerate che è una partita poco più che un amichevole ecco diciamo così perché è inquadrata nella summer cup in cui poi la juve sfiderà anche il barcellona e il real madrid eccetera no eh e quindi di solito il regolamento in questi casi prevede che tutti quelli che è a disposizione possano giocare quindi può essere che ci sia una partenza con tanti titolari e una chiusura con tante riserve o che allegri preferisca fare un mix delle sue delle due situazioni per cui non c'è molto da andare ad analizzare una partita così se no la curiosità di rivedere in campo Pogba con la maglia bianconera sempre che usino quella perché potrebbe usare anche quella nera la seconda quella che hanno pubblicizzato tempo pochi giorni fa l'altro ieri pubblicato anzi l'altro ieri e di Maria con la maglia della juve insomma ecco quindi diciamo che non si va al di là di questo tipo di curiosità di vedere all'opera questa nuova squadra poi è chiaro che più sarà più bello vedere le partite contro il barcellona e contro il real madrid perché lì veramente poi sono sfide che vuoi vincere però ecco quello che vorrei premettere è che poi li troverò questi commenti negativi se le cose non dovessero andare bene siamo la solita squadra che non sa giocare a calcio la solita vergogna perché poi lo so basta juve civas ma se avessero messo in onda anche juve pinerolo avrei trovato questo tipo di commenti però vorrei che le persone intelligenti che fortunatamente sono la maggior parte capissero che queste sono partite che fanno storie a sé che o meglio che non fanno nemmeno una storia se non la curiosità di vedere all'opera i nuovi giocatori con la maglia bianco nero ecco tutto qua dopodiché ognuno si farà evidentemente il suo giudizio questa storia qua di paredes è reale vincolata ovviamente alla cessione soprattutto di arthur però è reale perché il giocatore spinge spinge molto per andare alla juventus per diventare praticamente il faro del centrocampo della juventus e devo dire che insomma un centrocampo compare l'ho sempre detto non è un fenomeno è sia chiaro però se vuoi giocare con il regista può essere una buona scelta quella di paredes ci si scordi di andrea pirlo ma per tanti 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 anni ancora questo è il concetto e però lui ha un ingaggio di 7 milioni netti o qualcosa di più quindi eventualmente si dovrà lavorare sul sull'ingaggio del giocatore però se c'è questa volontà poi potrebbe essere anche inserito ken nel discorso che aveva fatto molto bene tra l'altro proprio in in francia nel paris saint germain 17 gol addirittura 17 18 non ricordo però insomma aveva fatto molto bene quell'anno lì parisi si dice vabbè grazie di combattere e neymar che ti mettono la palla lì e tu la butti dentro beh devi anche buttarla dentro però vediamo ragazzi certo se va via anche Ken il discorso relativo all'attaccante acquista poi se non sarà Arnautovic insomma da gli questi da fare una ragione insomma no iscrivetevi al canale e ovviamente ci vediamo domani con il doppio video ciao 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 ciao